Sì, sono Pasquale Le Simone, presidente dell'Associazione di Fusione Sport di Imola. Lavoriamo nel modello sport dal 2005 e con prevalentemente un settore femminile della pallacolo, quindi questo bellissimo sport che mi appassiona ne ha servito per tutta la vita. La di Imola abbiamo iniziato nel 2005 con una piccola squadra e siamo arrivati l'anno scorso al vicecampionale di Serie D e quest'anno abbiamo votato il campionale di Serie C regionale. Quindi partendo da zero, nel 2005 erano zero, in sette anni abbiamo vinto quattro campionati. Con lo stesso nucleo di ragazzo? No, è cambiato, lo stesso nucleo è partecipato ai campionati provinciali e poi lo stesso nucleo è partecipato ai campionati regionali. Noi abbiamo una caratteristica che il campionale ci potrà distingue dal primo momento in cui è nata l'infusione sport e del principio su cui è stata fondata, quella di far praticare lo sport gratuitamente, uno sport praticato gratis non perché deve essere rivolto a chi non ha la possibilità di permettersi di pagare delle rette mensili o annuali, ma uno sport che sia importante nella vita, nella formazione di un giovane e quindi va fatto gratis per questo motivo, per il suo valore. Aspetta un attimo perché la cosa non è così chiara. Allora, se ho capito bene, le tue ragazze tu offri? Noi offriamo i corsi gratuiti di pallavolo alle ragazze per tutto l'anno, quindi da settembre a maggio le ragazze hanno il loro corso di pallavolo, quelle più adulte, quelle più grandi fanno il campionato giovanile, attività come agonistica, tutto totalmente gratuita, compreso anche il materiale, quindi viene fornito materiale sportivo, l'iscrizione ai campionati, la partecipazione alle attività e quant'altro. Siamo ad oggi, nell'iscrizione per la stagione 2012-2013, circa 80 ragazze under 14, perché under 14 è il limite da cui siamo partiti, quindi in questo momento è la nostra squadra più anziana, tra virgolette, a 14 anni e poi abbiamo due squadre adulte, una seconda squadra che partecipa al canale di terza divisione e la squadra che partecipa al canale di serie per un totale di circa 110 attretti. Sono veramente tante, ma immagino che nelle prossime settimane sarai subissato di richieste. Noi siamo già stati subissati di richieste purtroppo, il primo giorno quando sono venute a iscriversi molti ragazzi che avevano prenotato lo spazio della squadra, sono venute fuori alla palestra anche tante mamme con bambini che non avevano chiamato, quindi non erano prenotate, non avevano il posto all'interno del gruppo e purtroppo ha molte… Aspetta, 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 ti devo interrompere, scusa. Sì. Non capisco bene il senso della prenotazione. Nel senso che noi abbiamo fatto un po' di promozione, di pubblicità per iscriversi a questi gruppi e abbiamo raggiunto il numero massimo di iscrizioni perché in un gruppo… Scusa, il numero massimo è quando è ricordato il dubbio. Però purtroppo noi il numero massimo lo dobbiamo raggiungere perché gli spazi nelle palestre che ci vengono messi a disposizione dall'amministrazione comunale non sono adere molti e quindi siamo costretti ad avere un numero chiuso di iscrizioni e siamo costretti a rinunciare, credo che intorno alle 20-25 bambini sono state costrette a non iscriversi al nostro corso gratuito. Ma il comune o comunque chi decide per lui è a conoscenza della particolarità di questo di conoscenza in occasione anche di momenti ufficiali ha ammesso della disparità di distribuzione di questo monte orario anche all'interno della stessa disciplina perché poi nella nostra disciplina c'è una divisione di ore, però nonostante questa disparità di distribuzione delle ore purtroppo non è possibile cambiarlo e quindi noi ci ritroviamo ad avere in totale 12 ore da dedicare alle bambine per quindi poter fare 3 turni e poter accogliere massimo 45 bambini perché noi facciamo gruppi da 15 bambini. Nel minivolle dove potremmo prendere qualcuno in più siamo nel momento fermi perché l'amministrazione comunale ha detto che sta provvedendo a trovare degli spazi in una fascia oraria che sia diversa da quella usuale che è riservata ai giovani cioè dopo le 4 e mezza quando la scuola ha dato a disposizione delle società sportive della colestra, quindi quella è la fascia oraria che utilizzano le società sportive per i giovani dopo le 4 e mezza fino alle 19, 19 e 30, 15. La nostra proposta è chiara, è questa, l'abbiamo gridata dal primo momento, noi facciamo sport gratuito perché ci crediamo, è chiara che non è solamente un valore etico su di quelle proposte perché se non ha un supporto anche di tipo manageriale difficilmente si legge perché è bello poter dire io faccio sport gratis e poi dopo alla fine non si riesce a sostenerlo. Noi abbiamo creato un sistema tale che grazie all'aiuto delle famiglie posso dirlo contributo dell'amministrazione perché non posso negare che comunque in qualche modo la mano ce la sta dando, il contributo delle persone che collaborano con me come dirigenti siamo riusciti a portare avanti questo progetto per 7 anni. È chiaro che adesso si è fermato e non c'è più un margine di crescita. Quindi non sospetto, probabilmente la tua società è troppo avanti e quindi cozza con dei regolamenti che non tengono conto di una nuova società che non faccia pagare nulla agli atleti e di conseguenza sicuramente il nostro progetto ha dei fondamenti che cozzano con i regolamenti comunali perché sicuramente quando sono stati realizzati non si pensava assolutamente a un'operazione del genere e quindi ci sono delle contraddizioni per esempio come può essere simpatica una cosa che il comune l'amministrazione mette a disposizione delle famiglie bisognose un coupon che permette alle famiglie di far praticare attività sportiva gratuita o gratuita o comunque in parte rimborsata o con una quota minore attraverso le società all'interno delle società sportive e da noi non c'è bisogno di usare questo coupon per cui le famiglie da noi vengono e fanno sport gratis e possono far praticare un secondo sport ai figli utilizzato questo coupon. La particolarità è che questo coupon prevede eventualmente un rimborso per le società sportive e quindi noi siamo due volte penalizzati perché da noi non portano il coupon e in più non abbiamo nemmeno un contributo a fronte di tutta questa attività gratuita. Ci stai facendo girare la testa. Hai aggiunto un altro, un ulteriore elemento. Il punto è, ci sono i coupon iniziativa lodevole del comune, ovvero sia dei buoni che permettono alle famiglie, diciamo meno abbiente con qualche problema, comunque di portare i ragazzi a fare lo sport e va bene, però tu mi dici poi io non faccio spendere nulla ai ragazzi e quindi i coupon io non li vedo, non ho quel minimo aiuto che mi potrebbe dare la comunità, in questo caso la politica locale. signora, io parlo nello specifico di questo episodio, che poi potrebbero esserci degli altri in cui invece l'amministrazione c'è un giro, quindi assolutamente noi parliamo di un episodio specifico riferito a quello che può essere la problematica di un regolamento comunale, però è chiaro che è un esempio di come qualcosa deve essere cambiato. Però è più grave il problema della palestra rispetto a questo momento, ci siamo confrontati con l'amministrazione e quello della sopravvivenza. Faccio un esempio semplice, la squadra di Paolo Apolo ha squadra under 18, under 16, under 14, under 13 e il minimo online. Sono cinque categorie e se vogliamo dare due allenamenti a squadra alla settimana sono dieci uniti di allenamento. Ad oggi noi con gli orari che ne abbiamo a disposizione possiamo averne solo sette, quindi una squadra e mezza non ha le ore per fare gli allenamenti. Quindi non possiamo fare tutto quello che è un percorso giovanile, quindi noi una squadra non possiamo costituirla perché non ci sono gli spazi. Stiamo parlando di due allenamenti alla settimana. È vero che va rivista anche questa cosa degli allenamenti perché ci sono delle società che fanno fare a delle squadre giovani, quindi anche tre, quattro, due, cinque allenamenti. Quindi come dice l'assessore Mazzini, con cui mi confronto su questa cosa, a volte bisogna anche un attimo dimensionare con i sogni in piedi delle società sportive a quello che è il patrimonio comunale di palestre. E quindi il patrimonio delle palestre è questo, lo spazio a disposizione è questo, società organizzatevi. Però è anche vero che esiste uno squilibrio, noi abbiamo solo poche ore rispetto al numero di tesserati e paragonato alle altre società c'è una disparità e di questo noi continuiamo a lamentarci. Mi sembra strano, io vengo da una realtà come quella di Napoli dove palestre ce ne sono poche, imono ce ne sono tante, ma vedo che problemi comunque alla fine gli spazi ci sono sempre.